O simo mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio, che di bontate d'eonesse spose, voi rapaci per ore per argento avvolterate, or conviene che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolcia state. Già eravamo montati dello scoglio in quella parte, da punto sovra mezzo il fosso piumba. Oh, somma sapienza, quanta è l'arte che mostri in cielo, in terra, mondo, e quanto giusto tua virtù comparti. Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fuori, do largo tutti e ciascun era tondo, fuori dalla bocca a ciascun soperchiava, d'un peccatorli piedi e delle gambe, infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe, perché si forte guizzavano le giunte, che spezzate verie in ritorte estrambe, qual suole il fiammeggiare delle cose unte, muoversi pur su per la strema buccia, tal'era lì dai calcagni alle punte. Chi è colui, maestro, che si crucia guizzando più che gli altri suoi consorti e cui più roggia fiamma succia? Chi è colui, maestro, che si riecomandante. Chiということで i respondedi. chi èส uncertainty, così rialibchi, il peccator che non i i più도 sono sempre più specifico. Chi è successo, chi è super divertita, Chi è加are unasmissione ti è popostosa. Chi è Woodside che era una bonti diversità,